Mi sembra assurdo ancora che Torino sia gemellata con Gazza e non abbia ancora fatto niente. Questi sono i nomi di tanti bambini uccisi, eppure state qua a guardarci senza fare niente. Fate qualcosa, si is fire now! Si is fire now! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Giù le mani dai bambini! Giù le mani dalle donne! Giù le mani dalle donne! No vi ho tastato du ritero No vi ho tastato du ritero Nos dodate la polis O che ha chiuso il tragete, O che vuole a fiecare, O che è la vera, che si tratta di volta, O che è la vera, che si tratta di volta. Scriverà, scriverà, Scriverà Palestina, Scriverà, scriverà Palestina, Scriverà Palestina, Oggi la quantità esatta dei morti non si sa. Parlano quasi di 30.000. Più di 10.000 di queste morti sono bambini. Un altro terzo di questa quantità sono le donne, che siamo qui oggi a chiedere al Piemonte a chiedere alla città di Turino di iniziare a portare dei feriti, dei malati, per essere curati qui nella nostra città. tutti noi sappiamo che la striscia di Gaza è gemellata con la città di Turino nel 1999. Ringrazio anche la giunta del sindaco, che fra poco accoglieranno una delegazione da parte nostra per consigliare ufficialmente la richiesta di fare un corridoio umanitario e sanitario per portare qui questi malati e questi feriti. senza colori, senza nazioni e senza religioni. Siamo qui tutti perché noi, anche di culture molto diverse, anche di credenze molto diverse, ma siamo qui ancora perché noi rimaniamo e restiamo come al solito essere umani. vedremo per terra molti fogli con molti nomi che qui ci sono nomi di persone che sono state uccise e queste persone non sono numeri e queste persone non sono numeri. Questi esseri umani come noi sono maschi come noi, femmine come noi, genitori come noi, figli come noi, hanno tutto il diritto di essere umani con la loro libertà, il diritto della patria, il diritto e la dignità del lavoro. Il governo italiano, purtroppo, è compilice, è nella parte sbagliata e sta vedendo, oppure sta facendo finta che vede quello che sta succedendo a casa. E noi come esseri umani siamo ancora qui a dire che noi rimaniamo fino alla fine esseri umani e facciamo il nostro dovere. I popoli rivolta scrivono la storia con la Palestina fino alla vittoria. I popoli rivolta scrivono la storia con la Palestina fino alla vittoria. I popoli rivolta scrivono la storia con la Palestina fino alla vittoria.